Come è andato? Una bella tentativa negli ultimi metri? Avevo una buona posizione, Schakman è venuto fuori da dietro al doppia velocità e ho avuto una gamba maggiore, complimenti a lui. Schakman è un po' forte? Sono contento di questa bella prestazione, l'ultimo messo non ero stato molto bene quindi sono felice così.